Al via al protocollo d'intesa tra il Comune e di Agropoli è quello di Capaccio Pestum per l'attivazione di progetti di sviluppo nei settori strategici di crescita del territorio. Visto che le istituzioni locali hanno un ruolo centrale nelle politiche e supporto della crescita, della promozione territoriale, dello sviluppo delle imprese, del miglioramento della qualità della vita dei cittadini e il ventaglio di strumenti a disposizione dei comuni e delle istituzioni locali per attivare azioni anche finanziariamente sostenibili è ampio ma allo stesso tempo articolato e complesso, i comuni hanno il dovere e la necessità di proseguire nel potenziamento di azioni comuni di sviluppo e crescita del territorio, attivando processi integrati di programmazione strategica in grado di coordinare le singole progettualità di Valenza sovralocale. E questa è la prefazione della delibera di giunta del Comune di Agropoli dello scorso 27 giugno, attraverso la quale si mettono in evidenza importanti azioni volte alla sinergia e allo sviluppo di progetti strategici per i territori di Agropoli e Capaccio Pestum. In ragione di ciò, visto che il Comune di Capaccio Pestum e Agropoli hanno importanti elementi in comune, quali cittadine con più di 20.000 abitanti, centri del commercio e sedi di importanti servizi la cui erogazione soddisfa anche i comuni limitrofi e che la città di Capaccio Pestum ed Agropoli rappresentano due realtà limitrofe che insieme possono avviare progetti di sviluppo integrati e realizzare sinergie rispetto a tante tematiche che per entrambi i comuni rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico della loro comunità, entrambi i comuni possono e devono fare sinergia con i contesti di aggregazione di servizi già esistenti sul territorio, inserendosi in tutti i processi di sviluppo di respiro sovracomunale, in quanto questo consentirà di avviare importanti interventi in vari settori, come quello delle infrastrutture per lo sviluppo fino alla predisposizione di servizi sociali efficienti e attenti alle persone. Forme di coordinamento e di collaborazione inoltre tra comuni di piccole e medie dimensioni sono fondamentali nel sistema di svolgimento delle attività e di erogazione dei servizi caratterizzati molto spesso da una struttura organizzativa frammentaria e condizionata da rigidità di bilancio.